peggiorano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro da 5 giorni ricoverato in terapia intensiva in un ospedale dell'Aquila. Il boss che ad agosto è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e affetto da un tumore al colon al quarto stadio e sta seguendo una terapia del dolore personalizzata in base alle necessità. Per questo motivo i suoi legali avevano predisposto un'istanza di scarcerazione definitiva, ma l'atto è stato momentaneamente sospeso a causa delle gravi condizioni di salute del boss e intanto sabato è filtrata un'indiscrezione che riguarda una presunta volontà del padrino di non essere rianimato in caso di necessità.